Si chiama Aisha Gonzalez, una influencer piuttosto famosa su TikTok ma anche su Instagram e uno dei suoi figli è diventato virale su web. Questa donna infatti è andata a Parigi, era in un ristorante con la sua amica del cuore. La donna non vedeva l'ora di scattare qualche foto da postare col suo abito nuovo formato da un piccolo topo metallizzato dei jeans di colore scuro. Il cameriere però, diciamo così, che ha storto il nando e le ha chiesto di indossare un cappotto o comunque degli abiti che andavano a coprirle quasi per entrare il corpo, forse perché è troppo scoperta o scollaccia. La donna ha pubblicato il video su TikTok raccogliendo anche critiche piuttosto aspe ma anche di complimenti per il suo abitamento piuttosto sexy nonché audace. Alla fine, pensate, questa donna si è vista costretta a cenare col cappotto addosso perché questo cameriere era letteralmente scandalizzato dal suo topo, evidentemente troppo scollacciato. La donna stessa ha detto non ci volevo credere. Tutto però. Una vicenda che ha dell'incredibile. Ecco, questa è la libertà che a volte le donne non possono avere. Mostrarsi che come sono, andare in giro con l'abbigliamento del polio, ma in questo caso, come vedete, non è stato possibile. Dal vostro natatore italiano in tutto, una buona sera a tutti e alla prossima.